Arriva la Juve Stabio, dicevamo polveri bagnate, cosa succede lì davanti? Succede niente di tragico, nel senso che succede che a volte durante le partite magari non c'è l'occasione giusta, però non c'è nulla da preoccuparsi e dobbiamo continuare su questa strada. Senti, miglior realizzatore del Cosenza, tre reti, però ti aspettiamo, come dire, ovviamente anche e soprattutto per te. Sì, sono partito bene, adesso le ultime due non sono riuscito a trovare il gol, però questa non è la cosa più importante, la cosa più importante è fare i risultati e che la squadra riesca ad arrivare alla vittoria. Prima, seconda punta, ti abbiamo visto veramente anche tutto campista, anche davanti alla porta, addirittura a salvare sul palo. Sì, quello che hai detto te, sono stato un po' fortunato in quella partita lì, mi ricordo che su un calcio d'angolo l'ho tirato sulla traversa per fortuna, però sì, è quello che ci chiede il mister, come lo faccio io, lo fanno i miei compagni e per salvarsi bisogna dare tutto in campo. Come si trova Fumagalli a Cosenza? No, mi trovo bene, è la prima esperienza lontano da casa, però mi sono ambientato bene con i compagni e anche fuori, sono contento. Ci racconti come è successo che sei arrivato qui? È successo che mi ha chiamato il direttore come prima persona, poi mi sono sentito con il mister che tutti e due mi volevano fortemente, io l'ho percepita questa cosa e ho deciso di venire qua perché penso ancora che sia il progetto giusto per me da qua fino alla fine della stagione. Arriva la US Tabbia un cliente scomodo? Eh sì, la US Tabbia ha fatto vedere grandi cose, infatti i punti che ha li ha meritati tutti e sarà una partita dura come tutte, però saremo pronti ad affrontarla.